Salve a tutti ragazzi, sono Bryce del Corriere Video Games, siamo qua, sull'aspettatissimo Destiny. In realtà questo video doveva essere pubblicato ieri, ma per diversi problemi che ho avuto nella realizzazione di Sony Vegas, ho dovuto postigibare nell'uscita. Premetto che non sarà una vera e propria recensione, visto e considerato che comunque le ore di gioco sono davvero poco per quanto mi riguarda. Quindi, considero questo video come una sorta di racconto sulle mie prime impressioni. Come già visto dalla beta, il gioco si presenta con una grafica molto ricercata, con un tema che riprende in alcuni tratti la saga di Halo, anche perché ricordo che questo gioco e Halo sono stati ideati dalla stessa casa produttrice. Gli scenari sono molto ben curati, anche se in alcuni dettagli si riallacciano l'uno con l'altro. Per quanto riguarda il comparto sonoro, non ho nulla da aggiungere, è ottimo. I suoni sono ben scambiti e puliti, ma nello stesso tempo profondi e coinvolgenti. Per non parlare poi delle soundtracks, specialmente quelle che vengono riprodotte al mezzo di un allegro combattimento. Gas è una bestia, minchia. Il gameplay è molto scorrevole, anche se personalmente, dopo diverso tempo, fa un po' appesantire le meningi, non so se mi spiego, ma magari riguardo solo a mio parere, non per forza voi dovete lamentare questo problema. La partita che state vedendo sullo sfondo comunque è stata fatta online, il quale, anche se postabile fin da subito, personalmente ha dato dei problemi di disconnessione e veri e problemi di gioco, di errore di gioco, il che è un po' grave. Le mie sentazioni le ho date, quindi vi lascio agli ultimi istanti di gameplay ad uno degli errori che mi ha dato appunto nell'online. Bella a tutti ragazzi, vi ricordo di seguirci su Facebook e bella GG. la zona C è conquistata. Zona A, persa. Il nemico ha conquistato la zona A. Hai neutralizzato la zona A. Munizioni pesanti in arrivo. Zona A, sicura. Tutte le zone prese. Avete il controllo totale. Munizioni pesanti disponibili. Zona C, neutralizzato. zona C, sicura. Voi controllate tutte le zone. Zona A, persa. Tutte le zone prese! Avete il controllo totale! Zona C, persa. Zona C, sicura. Controllo totale. Ottimo lavoro. Zona A, persa. Zona A, conquistata. Ottimo! Tutte le zone prese! Avete il controllo totale! Zona C, persa. Il nemico ha preso C. Zona C, neutralizzata. Zona C, sicura. Voi controllate tutte le zone! Voi! 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 Voi!